Alessia Pirna, meravigliosa, giovane ragazza, talento da vendere, soprattutto una grinda straordinaria a questa giovane ragazza, 12 anni se non erro, ma dentro già un'adulta veramente nel modo di porsi, di muoversi e di tenere il palco. Sei contenta di questo premio? Sì, sì, grazie. Vuoi dire qualcosa? Sì, come sempre vorrei, come ho detto prima, ringraziare il mio maestro e il pubblico e soprattutto la gioia. Grazie. E allora grazie, grazie Alessia Pirna. Pregno di relazioni rosso di sera, questa sera, qui sul palco del Mamut per Run Capital Music. Andiamo avanti.